La storia consolidata, al di là delle differenze geografiche che pur ci sono, ormai vivono in maniera condivisa uno stato di sofferenza. Negli anni passati questo stato già esisteva, ma c'erano differenze tra territori, differenze tra storie. Col passare degli anni il numero di comuni che vive una difficoltà reale nella chiusura dei bilanci è sempre più significativo.